Il progetto di venerdì scorso si inquadra nell'ambito del piano di controllo del territorio denominato Progetto Petrace, che è un piano di controllo del territorio fortemente voluto dalla Questura di Reggio Calabria e che mira proprio a intensificare l'attività di prevenzione e soprattutto di contrasto ai reati e quindi anche ai reati in tema di narcotraffico. Venerdì intorno alle 15.30 una pattuglia della sezione investigativa che unitamente alle pattuglie della squadra volante del commissarato di Gioia Tauro pattugliava la ex strada statale 111, ha notato un'autovettura, un'utilitaria, a bordo un nucleo familiare che procedeva ad un'andatura abbastanza sospetta, con un'andatura molto lenta, che ha comunque attirato l'attenzione dei poliziotti. Quindi un primo plauso va agli operatori di polizia che hanno notato questa andatura particolarmente lenta, intervallata, intermittente di questa utilitaria. L'utilitaria quindi è stata controllata, l'autista di questa autovettura ha iniziato subito a insospettire gli operatori che hanno quindi deciso di condurre l'autovettura in commissariato per sottoporla ad un controllo più accurato. Nel frattempo sono stati allertati gli agenti delle unità cinofile della Polizia di Stato per ispezionare l'autovettura in maniera più approfondita. E di fatti i controlli delle unità cinofile e quindi dei nostri cani pastore che sono specializzati proprio alla ricerca di sostanze stupefacenti hanno segnalato la presenza di droga all'interno dell'autoveicolo. Una successiva ispezione più accurata e uno smontaggio delle intercapedini e dei pannelli di tappezzeria hanno permesso poi agli operatori della sezione investigativa del commissarato di Gioia Tauro di rinvenire ben tre panetti di cocaina purissima del peso di un chilogrammo ciascuno. Quindi per complessivi tre chilogrammi di cocaina che erano appunto stati occultati in quest'intercapedine. Ovviamente l'autista dell'autovettura si è assunto alla piena paternità della detenzione del trasporto che è stato quindi ovviamente tratto in arresto per il reato di trasporto e detenzione in ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Siamo molto soddisfatti perché dall'inizio dell'anno il commissarato di Gioia ha inanellato numerosi successi. abbiamo tratto in arresto numerosi soggetti sia italiani che extracomunitari responsabili dei reati di detenzione spaccio di stupefacenti. Quindi questo in ordine di tempo è l'ultimo di una serie di arresti che ovviamente coronano il piano di controllo del territorio che è stato predisposto dalla Questura.